Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft di da quinta stagione perché eccoci qua come promesso oggi non continuiamo la villa perché tre episodi sulla stessa costruzione dopo un po' diventano noiosi a bestia, a bestia proprio sì, no, per carità, infattibile quasi quindi che cosa andiamo a fare oggi? non ho più spazio, devo crearmi un'altra doppia cesta per quanto riguarda la cobblestone perché davvero inizio ad avere seri problemi per lo smaltimento di sta roba me la metto qua intanto anzi facciamo una cosa qui ci metto una soltanto, una cesta soltanto e ci metto la cobblestone, questa qua in eccesso i derivati, gli slab, sta roba qua preferisco tenerli nella cesta centrale magari perché questa è tutta cobblestone che poi non riutilizzerò non è che ci faccia per anche questa roba in tutti i casi cosa andiamo a fare oggi? mi avete chiesto, dato che ho eeeh, 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 eeeh ho tante cose di cui parlarvi come al solito sì, 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 linee massima ci sono davvero parecchie cose che vorrei affrontare con voi detto questo posiamo le ultime cose e poi ce ne andiamo e a fare un videozzo in caverna perché devo parlarvi di una roba eccessivamente figa cioè almeno che mi avete fatto notare voi non so se sia davvero realmente accaduta così oppure magari è soltanto una cosa dici, vabbè, no, casualità no, ma no, magari non è il mio allora sapete il nostro mondo è interamente, interamente di ferro, de, de ferro come dicono a Roma come dicono a Roma de ferro eeeh, surreal power in un suo episodio, nell'ultimo episodio tipo ha detto che c'è, c'è una farm straepica di ferro quale Iron Titan quella cosa là in fondo che c'è, quel coso grosso là che ti permette di creare addirittura un mondo in ferro senza troppi danni e problemi cioè, oddio, io non so se si risferisse a questo mio mondo mmm, perché magari, cioè, non è, non sarò l'unico su YouTube a aver fatto una roba del genere che per carità, guardate, cazzo, è tutto ferro vi rendete conto? che cosa meravigliosa abbiamo creato cioè, se lo guardate, qui dici porca troia, porca tanta roba, mi piace un sacco, davvero bellino eeeh, beh, non so cioè, magari, se davvero si riferisce al mio chapeau che ha nel senso, io gliela lancio la proposta e, vuole fare un video con me, non c'è problema io non ho portato il legno e le torce sono stronzo, 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 stronzo no, però io, se vuole davvero un video insieme, lo facciamo, eh l'ho detta qua lancio l'idea se Surreal Power vuole, io non c'è, ci sono problemi sì, free, ciao me lo so, me lo so eeeh, eeeh sì, vabbè sogno ancora un po' poi dopo torno con i piedi per terra, ve lo prometto uno stichino sono andando qua per prendere uno, un po' di legno due, voglio andare a fare un po' di esplorazione in caverna perché voglio un po' di diamanti sembra una cazzata però qui l'armatura inizia a scarseggiare per carità io ho tanti diamanti però vorrei prenderne qualcun altro quindi magari è tantissimo che non stiamo in caverna è tantissimo che non vado a caccia di diamanti è tantissimo che non faccio tante cose e quindi sarà il caso di andarcene un po' no, ma fa così giusto per passare una giornata in compagnia anche perché poi no, che cazzo non c'entra un cazzo non lo so che non c'entra niente però il fatto è anche il seguente ragazzi che... e io è tanto che non affronto mob e io ho la dipendenza da mob è tanto che non muoio insomma lo sapete io ho necessità di fare determinate cose su minecraft che se non faccio non sono felice ok eccoci qua stavo ammassacrando qualche zombie magari troviamo anche uno spawner perché io da spawner sono messo veramente male mi piace sta luce che entra dentro ci potrebbe essere uno spawner di zombie magari che ne sappiamo potrebbe esserci tanta tanta roba sarebbe lo spawner di zombie adesso ricogliamoci un po' di ferro eh sì sì c'è sicuramente uno spawner di zombie ragazzi da ste parti oh sono contento di aver trovato uno spawner anche se via e massia non ci facciamo granché perché tutto quello che ci serve ce lo abbiamo ma sicuramente non è qua lo spawner di zombie perché viene venivano da un'altra parte tipo da da qua vediamo un po' eh non sembra devo essere sincero casualità davvero una casualità così cioè sono spawnati solo zombie e sono venuti da me soltanto zombie evito di prendere ferro sapete tanto che ci facciamo col ferro o prendo il ferro gre idea il pavimento della casa col ferro grezzo col ferro grezzo oddio che spettacolo in stile capo bastone 2011 meravigliosamente meraviglioso sì ok va bene facciamo prendiamo il ferro prendiamo prendiamo il ferro tanta 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 roba mi piace mi piace l'idea vediamo come ci stanno ho detto che stia benissimo però potrebbe starci bene per carità c'è un ragnetto mori male ok mi sono un attimo rifugiato qua dentro per motivi logistici dovevo lasciare la postazione e allora ho detto vai mi rintano ahia ah ah ahia ok morto male perfetto ancora ho visto un mister creeper il che mi rende triste attenzione un ragno morite male mori male grazie perfetto vabbè questi è abbastanza stealth forse siamo a livello molto alto per ora queste caverne io non avevo visitate mai c'ho il mob spawner che funziona ovviamente a bestia perché quello è un mob spawner che funzionerà sempre a bestia però insomma non è che c'è tutta sta grandissima possibilità nel senso non boh insomma ciao meglio devo essere sincero quindi quindi ah più che altro dobbiamo trovare una soluzione per quanto riguarda il coso il coso sarebbe il creeper super caricato perché tenerlo lì e si va bene mi piace l'idea voglio togliergli una targhetta quella groom perché mi dà abbastanza fastidio vedere la testa in giù poi è vero c'è stato abbastanza fin troppo a testa in giù per il mister creeper no perché se lo merita se lo merita però l'idea era magari fare dato che abbiamo anche la farm adesso un po' di teste io le volevo prendere magari da appendere da qualche parte stealth e tutto il resto potrebbe essere una vaga idea quella di fare una roba del genere per carità sarebbe secondo me anche carino prova ah no ok funziona niente scherzavo cazzo pensavo a parte che ho dei capelli oggi stralunati pensavo non stesse registrando l'audio mi era preso tipo un colpo ho detto cazzo ma sto registrando da tanto e non si è mossa buggino non si sta muovendo la target la cosa la linea del tempo cioè la linea del coso la linea del tempo faccio le medie le elementari cazzo no la linea del barra dei secondi barra minuti che scorre se registri adesso non scorre e se io non ho registrato sono cazzi anche perché sono le 11 e 41 se io non ho registrato ste clip devo rifare tutto il video la vedo male che per le 2 possa uscire però boh chi lo sa anche lì lo siamo 44 devo scendere e tanto non che io abbia girato così tanto però sono arrivato a un punto interessante siamo abbastanza bassi c'è della lava e adesso andiamo a vedere F3 quanto siamo o 13 13 è molto molto buono come risultato perché ci potrebbero essere adesso di avere diamanti ne potremmo trovare un po' non so quanti questo piccone non ha fortuna io perché vengo così senza fortuna a casa anche perché io non so se ho picconi con fortuna non ne ho il minimo ricordo devo essere sincero i miei enchant forse fanno lasciano un po' il tempo che trovano nel senso si non me ne sono sbattuto più di tanto ho insistito più sulle costruzioni che più sull'armor sull'armor l'armor è sinna allora ho trovato i diamanti quindi buono buono scommesse quanti ne sono uno già tre sicuri sono tre 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 non che sia eccessivo per carità tre diamanti vanno bene si poteva fare i meglio si poteva fare i peggio comunque va bene abbiamo anche un'altra via da percorrere non so quanto ferro ci sia rimasto attualmente abbiamo quasi uno stacchino quindi già potremo andare a provare lo stacch a casa a vedere se davvero ci sta bene a mettere tutta sta roba ma magari lo proviamo già nel prossimo episodio perché la vedo la caverna che è continua qua c'è un altro zombino quindi lo massacriamo malissimo ecco qua molto male qua non sembrano esserci tanti altri diamanti vediamo eh se scende ah qua ecco qua il canyon questi famosi canyon a bestia vorrei un attimo fare una tipo cosa del genere almeno chiudiamo per bene e qui si cammina già in maniera un po' più forse tranquilla il fatto che ci sia la lava così davvero è tanta tanta roba qui c'è un sacco di lava che potremmo utilizzare ma poi utilizzare come non è che abbiamo grandi possibilità di utilizzo ragazzi sono riuscito è passato diverso tempo all'ultima clip non eccessivo però insomma un po' di tempo lo abbiamo trascorso stavo riprendendo qualche altro cactus e devo dirvi che non è male ce ne stiamo tornando a casa con un bel bottino con tre diamanti che alla fine ci può stare con un sacco di ferro che adesso andiamo subito a provare alla villa perché magari ci potrebbe star bene perché no poi come altro progetto da fare adesso proprio in linea di massima tra uno o due giorni illuminare assolutamente tutta la zona all'interno delle mura ok che non è ancora chiusa che ci sono delle parti di mura aperte però vuoi mettere già aprendo qualcosa è carina l'idea di fare delle mura è stata fantastica perché poi cazzo abbiamo delimitato un sacco il territorio ed è molto molto positivo questo perché per i mob probabilmente non ci verranno a dar fastidio così tanto vedete sta piovendo adesso volevo questo ho una pala anche nell'inventario quindi possiamo andarcene a provare adesso così sento anche un vostro feedback se funziona o no questa tecnica di mettere il ferro non so perché vado così tanto a fondo solitamente scendeva meno vediamo un po' tac iniziamo a scavare tutto ci facciamo qualche linea soltanto nulla di particolarmente eccessivo voglio fare anche dei sotterranei interessanti su sta casa non so bene adesso come farli non ho studiato granché la situazione vediamo un po' dato che c'è c'è il ferro 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 un po' meglio così non è quello che mi aspettavo devo essere sincero si può fare assolutamente di meglio però in massima qualche decorazione col ferro ce la possiamo fare si no così non mi piace ci andremo a mettere magari del legno roba varia però qualche decorazione cina col ferro si può fare in tutti i casi ragazzi penso che per questo video possa essere tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi ricordo di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto iscriviti al canale se vi è già fatto di condividere il video su facebook e fammi lasciare persone mi raccomando passate tutti i link in descrizione facebook instagram e ci vediamo come al solio al prossimo video ciao a tutti ragazzi